Poi chiederle sulla von der Leyen, stamattina Salvini diceva che la von der Leyen ha fatto malissimo, noi pensiamo che la Commissione in questo momento sia il male assoluto, cosa che forse voi non condividete così tanto, la Meloni pare abbia una grande sintonia con l'azienda della Commissione europea. Siamo partiti alleati ma non siamo identici, siamo perfettamente complementari ma non siamo sovrapponibili, altrimenti saremo lo stesso partito. Iniziano la campagna per gli europei, la Lega sta in Europa, in una posizione, in dei gruppi che sono diversi da quelli in cui stiamo noi, dei conservatori. Normalmente abbiamo delle sensibilità diverse, pensi, Tajani sta nei popolari ed è uno dei riferimenti popolari e quindi in Europa ha una posizione diversa, sia da quella nostra che quella ai Salvini, ma questo non crea problemi, anzi è una ricchezza per l'Italia, perché questo consente all'Italia di avere in Europa e al governo più sensibilità e più voci che portano quindi anche dei buoni risultati per l'Italia, grazie a Giorgia Meloni come stiamo vedendo.